La squadra è molto motivata, carica, abbiamo gente nuova anche rispetto alla scorsa tornata elettorale e c'è grande entusiasmo e questo mi fa un enorme piacere. Per quanto riguarda la prossima tornata elettorale, noi abbiamo governato per questi anni con il centro-sinistra, abbiamo fatto una lista che si appresta ad affrontare la terza legislatura e ovviamente gli accordi si fanno con le persone e con i programmi, quindi aspettiamo di capire quello che sarà il candidato sindaco che proporrà in questo caso il PD, che è la forza di maggioranza, con il quale poi ci andremo a confrontare, andremo a discutere sui temi che dovranno poi accompagnarci per i prossimi cinque anni. Per quanto riguarda le primarie, positivo o negativo come le veda? Ma io vedo che se il candidato lo deve esprimere il PD, le primarie dovranno decidere loro se fare le primarie o meno. So che c'era un accordo in precedenza che non si sarebbero dovute fare le primarie all'interno del partito, però se decideranno di farle sarà una scelta loro. Quello che è il mio pensiero è che non debbono essere primarie aperte a tutti, ma il candidato sindaco lo devono scegliere gli iscritti al PD, perché se io fossi il rappresentante della coalizione in contrapposizione con il centro-sinistra, manderei i miei a votare e sceglierei quello più debole. Tatticamente è sbagliato, poi succede magari come è successo al PD nazionale, dove Bonaccini che aveva la maggioranza degli iscritti, poi è stato sconfitto magari da chi non era iscritto al PD e gli faceva più comodo avere la sliner rispetto a Bonaccini. In termini di alleanze invece no, la politica cambia, nuovi partiti, nuove alleanze. Voi vi vedete quindi all'interno di questa giunta con questa coalizione qui? Noi ci vediamo all'interno di chi la pensa come noi ovviamente, non siamo obbligati a stare da una parte o dall'altra, è chiaro il sentimento è quello di proseguire il progetto, noi però vogliamo viaggiare con chi la pensa come noi, se ci attaccano su quelli che sono i nostri temi, come per esempio il parco, non si può stare con tutti, bisogna scegliere.